ciao allora benvenuti nel video delle scoperte del mese allora il primo prodotto che vi voglio mostrare è questo qui che cos'è e ne avevo due di campioncini eccolo qui che è fatto anche benissimo perché è proprio la confezione che devi apparire dal tappino ma se gli dico cos'è è meglio è della crestase e si chiama l'ho segnato perché è sul retro è elixir ultime will originale quindi olio originale la confezione grande da 100 ml viene 27 euro e 90 io ho trovato su amazon è un prodotto professionale che si può tranquillamente reperire anche dai parrucchieri allora ve lo faccio vedere perché ne ho due ma mi faccio vedere uno è che la confezione grande è fatta esattamente così cosa dire prima di tutto si tratta di un olio per i capelli che quindi va a illuminare idratare mettere in piega un attimo mettere in piega no disciplinare in caso crediamo dei crespi però è un olio per capelli e quindi contiene silicone e anche questo lo contiene ma quando prendiamo un prodotto le tipo olio cristalli liquidi ed è vogliamo dare luce ai capelli ma sappiamo che è un prodotto a base siliconica e quindi quando acquistiamo lo sappiamo questo mi è piaciuto tanto tantissimo allora si tratta di un olio secco setosissimo ma secco e io solitamente utilizzo cristalli liquidi ma si sentono un pochino di più questo davvero è secco effetto del silicone diciamo quello che è effetto del silicone però davvero poche gocce le applicate sulla solo sulla parte finale davvero li rende lucidi ma è una cosa fantastica comunque non va da pesantire i capelli non li fa non gli unge non dà un effetto unto quindi bello per questo l'ho fatto anche signor marito quindi è davvero secco perché aveva un attimo da mettere a posto che non si era asciugato i capelli quindi fantastico il profumo è buono è fiorito buono e niente è un prodotto che a me è piaciuto sapete che a base siliconica però valido il fatto è che costa tanto quindi per un uso sporadico può anche andare bene vogliamo per un giorno una serata i capelli luminosi è sicuramente un buon prodotto da usare sporadicamente io che gli utilizzo ogni volta che lavo i capelli lo userei un po troppo spesso ed si esaurirebbe un po troppo spesso e comunque sapete che vi recensisco anche i prodotti low cost che sono molto validi quindi andate a guardare e andiamo al prossimo prodotto che vi mostro è io ho una mini taglia ma comunque è lo stesso è questo prodotto della bottega verde estratti di bellezza scrub maschera due in uno purificante dice mela verde e kiwi kiwi e spoglia kiwi e spoglia mela verde e kiwi e sfoglia e purifica la pelle bene sappiamo parlare per pelli miste o grasse allora io ho la confezione da 20 ml ma comunque ho guardato sul sito 75 ml viene 13 euro 99 ma in promo anche 6 99 quindi da tenere d'occhio quando è in promozione allora cosa dice intanto di massaggiare sul viso un minuto e sciacquare evitare la zona dei contorni occhi e labbra giusto non dice altro ok allora ve lo spiego io dunque prima di tutto linci valido sicuramente valido profuma tantissimo di mela verde che è buona poi tanto ve lo mostro per tenere d'occhio questo qui e come scrub mi piace perché ha tanti microgranuli che vanno a grattare bene ma sono delicatissimi quindi vanno a rimuovere le schifezze che vanno nel viso ma sono delicati quindi vanno bene anche per un uso frequente certo non lo consiglio che ha una pelle sensibile ma questo è adatto per la pelle mista o grassa io l'ho abbastanza sensibile in questa zona e non mi ha mai irritato o arrossato quindi anche per chi non è troppo sensibile ma non vuole un prodotto aggressivo questo è consigliato e ve lo consiglio anch'io come maschera lo applico su tutto il viso la lascio asciugare e poi la rimuovo si pratica funzionale effettivamente mi sento la pelle pulita ma la preferisco come scrub come scrub davvero è pratico basta poco prodotto si massaggia si risciacqua facilmente davvero viene via subito e lascia quella sensazione di pelle pulita ma non che non tira che non ha bisogno di idratazione fantastico questo è un prodotto che sicuramente quando trovi un'offerta promozioni saldi o promozioni periodiche lo tengo d'occhio perché mi è super piaciuto quindi se avete la pelle mista grassa lo consiglio anche a voi allora ultimo prodotto per questo video e siamo sempre in tema capelli con questo prodotto che ho finito è uno shampoo dell'ultra dolce garnier shampoo idratante con acqua di cocco e aloe vero dice di idrata senza appesantiere la confezione 100 per cento riciclabile che non è una cosa malvagia perché tutto in plastica 250 ml viene 2 euro e 49 la tigota ve lo faccio vedere che questo qui che io ho completamente finito e mi è piaciuto profumo delicato anche lui è delicato sui capelli ma fa una schiuma bella ricca bella morbida che però si rimuove molto facilmente mentre ci acquiamo con l'acqua tiepida buon potere pulente lascia i capelli davvero puliti però è idratati morbidi e districati quindi pulisce ma nel stesso tempo idrata e rilascia districati mi è piaciuto funziona sì è delicato buon potere pulente non appesantisce i capelli non li rende non li fa sporcare velocemente stessa cosa non li secca e non li va a come si dice quando vanno si seccano troppo diventano quasi stopposi assolutamente questo non lo fa per 2 euro e 49 un prodotto che vi consiglio io di shampoo ne uso vari in alterno questo davvero molto valido e adesso ne provo altri ma questo mi è piaciuto e potrei anche tranquillamente ricomprarlo allora questo era tutto il video dei dei prodotti riscoperte del mese perché sono tutti prodotti nuovi fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come siete trovate vi ricordo anche sempre di seguirmi su instagram perché lì pubblico le first impression prodotti che provo per una o due volte quindi non ci faccio un video dedicato e lì sono cattivissima perché ne boccio davvero sempre tanti comunque fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti come siete provati ma non mi ricordo se l'ho letto o no bene perfetto oggi giornata se vi è piaciuto il video mettete un like iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella di sotto così verità visata ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao